Signori, signore, pensate se Superman decidesse di planare giù, scoperchiare la casa bianca e portarsi via il presidente dallo studio vale. Chi lo fermerebbe? Chi lo fermerebbe? Chi si obbedisce, muore. Chi tenta la fuga, muore. Ce l'hai ragazzo? Innervositemi o irritatemi. Io so essere molto irritante, ti volevo solo avvertire. Morirai. Se li beccano li buttiamo sotto un bus. Che corsa! Giochiamo! Dai, hai di meglio da fare. Bruzzalo! Già l'adoro. Non buono! Mi raccomando, siamo i cattivi. Paroline dolci con me. Tutte queste chiacchiere ti faranno solo del male. Vai, vai! Ma che fai? Vuoi vedere chi sono? Voglio vedere! Vuoi vedere chi sono? Vuoi vedere chi sei! Cercavo solo di smuoverti, senza rancore, amici. Che prendete? Birra. Whisky. Mico 12 anni. E tu, tipo caldo? Acqua. Ottima scelta, caro.